Quindi relativamente all'impegno il focus sbagliato in questo momento, nonostante vada un po' contro quello che vi ho appena detto, è risultato in termini di donne. Ora vi dico una cosa un po' cruda, cioè focus corretto risultati in termini di skills. Nei prossimi 90 giorni le ragazze che voi approcciate non esistono. Qualcuno ha una vaga idea di quello che sto dicendo? Cioè che non sono reali? Ora so che le... Non sono per arrivare a rischio. Sì, sembra che le sto deumanizzando, desumanizzando, come si dice in italiano, non mi ricordo. Deumanizzando? Sembra che le sto disumanizzando e sia un... non lo so. Però è così, cioè quei ragazzi che voi state approcciando non sono veramente lì, sono solo un mezzo per arrivare ad avere le skills che vi servono. Se poi nel frattempo voi riuscite a fare sesso con queste ragazze, uscirci, accumulare esperienza, quello che è, poco importa, è tutto di guadagnato. Però in questo momento focalizzarvi sui risultati è un focus che purtroppo è sbagliato. E non mi... fraintendete quando dico questo, nel senso che fondamentalmente... Come dire, voi potreste dire, senti Gio mi stai sul cazzo, va a fare in culo. Uscite, prendete, ve ne andate, iniziate a rimorchiare e scopate questa sera. Semplicemente per un qualcosa di... dovuto a seduzione del culo, della speranza, eccetera, eccetera, eccetera. Molto diverso è il fatto che voi riuscite a fare qualcosa di ripetibile, costante, eccetera, eccetera, eccetera. E questo si ottiene attraverso la formula, volume più skills. Se questo video ti è piaciuto ti ricordo tre cose al volo. Uno, iscriviti al mio canale Telegrangio di Lorenzo, dove ti do informazioni che qui su YouTube non posso darti. Il link per iscriverti è gratuito e lo trovi in descrizione. Due, in descrizione trovi anche i links a tutti o quasi i miei corsi, dove ti spiego passo passo come imparare la seduzione con sistemi step by step. E tre, purtroppo hai i links in descrizione e non trovi tutti i corsi. Alcuni te li proponiamo solo se ti iscrivi alla newsletter e rimani qui solo un secondo perché ti sto per spiegare come fare. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare ad ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare ad usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link qui a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.